Siamo con il sindaco di Latera, Francesco Di Biaggi, che ringrazio alla fine di questa Latera Cultura, 5 appuntamenti, ma sicuramente ci sarà un seguito, vero sindaco? Sì, assolutamente, è stata una bella scoperta, è stata una bellissima intuizione del delegato alla cultura Luigi Migliaccio. Questi cinque incontri che ci hanno impegnato tutto il mese di luglio mi hanno fatto conoscere persone nuove, esperienze nuove, fatto acquisire tante conoscenze che non avevo, è stata una splendida scommessa vinta. Sicuramente è da rimettersi, capiremo adesso i modi, come e quando, ma abbiamo tracciato la strada e la proseguiremo sicuramente. Da un punto di vista del Comune, quali saranno i prossimi eventi che organizzerete? Abbiamo il 5 agosto un grande evento che riguarda una mostra fotografica dell'archivio di foto storiche del Paese, che si chiama Archivio Latera, dove sono state digitalizzate più di 3.000 foto, alcune saranno in esposizione dal 5 agosto al 22 settembre. Per l'esposizione completa aspettiamo il prossimo anno che finiscono con i lavori di digitalizzazione e stampa per poterle poi esporre a tutto il pubblico. La ringraziamo Sindaco. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie a voi, buon proseguimento.